Buon martedì 3 gennaio. Dopodomani alla scuola affronteremo il tema della normalità e della devianza. Parole cariche di significati esistenziali condizionano profondamente il nostro comportamento, i nostri stili di vita. Siamo molto presuntuosi quando ci definiamo o immaginiamo di definirci normali con tutte le infinite sfumature della normalità. L'estremismo della moderazione, la capacità di controllare le nostre relazioni, il mondo, questa tensione verso l'autoreferenzialità, l'egocentrismo che campeggia laddove la logica del profitto domina l'esistenza e la logica del profitto parla della nostra possibilità, potenzialità, capacità di possedere e trattenere. Di idolatrare il nostro modo di pensare. Siamo quasi destinati per ragioni culturali ad assecondare una cultura nella quale noi ci sentiamo creatori e dominatori dell'universo. Una sorta di una molteplicità di piccole divinità, le quali guardano con ammirazione le grandi divinità, i potentati della terra, che oggi si arpeggiano nei social, attraverso le immagini. Ci si fa promotori dell'immagine di sé e si fa vanto di avere tanti followers. E attraverso quella modalità interpretativa dell'esistenza ci si può anche arricchire sul effimero del profitto derivante dai giochi di prestigio dell'economia di finanza. Questa è la normalità che presuntuosamente inseguiamo e coltiviamo quando troviamo delle piccole tracce nella nostra esistenza. E diventiamo in questo modo fortemente giudicanti, rinforzati anche da quanti professionalmente stigmatizzano la nostra normalità. Nel senso che ci appiccicano un'etichetta che in virtù del fatto che ci presentiamo come servitori dei potentati, allora noi possiamo metterci il piccolo cartello etichettante dell'essere normali, di origine controllata, di origine protetta, sì perché questa normalità viene protetta, perché intorno a questa normalità si intessa il modello di sviluppo il quale ci vuole semplici consumatori. Sì, sì, anche invitati a vivere i rituali formali della democrazia nel momento del voto, largamente truccato dalle regole che gli esseri umani si sono dati, pensando di essere particolarmente furbi, e anche un po' spinti dalla propaganda che parla alla pancia della gente e la invita a essere propensa a credere, alle promesse farlocche che il potere ci propina costantemente. Meno tasse, meno bene comune, ma questo non viene detto, vi garantirò servizi gratuiti senza necessità di avere le risorse necessarie derivanti dal bene comune. Questa è la modalità attraverso la quale ci facciamo interpreti e assecondanti di questa logica ingannante. disattenzione totale nei confronti dell'ambiente che tanto poi la scienza, la tecnica, ci permetterà di controllare al nostro uso e consumo. Sì, noi vogliamo usare la natura, vogliamo essere coloro i quali non lasceranno in eredità pressoché nulla, perché avremmo consumato tutto. Stiamo vivendo in questo mese di gennaio una condizione di mitezza climatica, che viene sottolineata come un'opportunità di non spendere troppi soldi nel ricorso al riscaldamento. Ecco che allora quel gioco economico-finanziario di speculazione intorno al valore attribuito alle fonti di produzione e vendita dell'energia, quella speculazione immonda, viene meno. Continua però, e attenzione, attraverso un imbroglio molto astuto, molto diabolico, divisivo. Si fa sì che si possa anche credere. Quello che Donald Trump disse in una campagna elettorale, durante la campagna elettorale, cosa importa che il cambiamento climatico elevi di qualche grado la temperatura su questa terra? Intanto ci metterà un sacco di tempo, quindi non ci riguarderà direttamente personalmente, ma avremo garantito anche la possibilità di eterne primavere. Spenderemo meno e ci faremo protagonisti del dominio sulla natura, senza tenere in alcun conto il fatto che larghe parti del pianeta si stanno desertificando, spariscono specie animali, vegetali. Il livello del mare si alza, ma non sufficientemente per allarmarci. Ecco che allora quanti sottolineano attraverso l'analisi scientifica ciò che sta accadendo, vengono annoverati tra le cassandre e i catastrofisti. Questa è la normalità che noi stiamo vivendo, quella normalità che ci induce a pensare di essere consumatori moderati delle bevande alcoliche, e che appunto, come dicevo prima, il mondo professionale ci rassicura. Sì, tu puoi bere tranquillamente il tuo bicchiere di vino, magari a pasto, ma quell'altro no, perché lui è un alcolista e quindi operando nella distinzione di etichettamenti, bevitori moderati da una parte e alcolisti dall'altra, faccio il gioco dell'industria produttrice, della catena, della filiera di coltivazione del vitigno, della sua trasformazione in vino o altre modalità attraverso le quali si producono distillati, birra, poi la raffinata produzione, la catena di distribuzione e vendita e di pubblicità che ci parla di mirabolanti condizioni esistenziali derivanti dal fatto che consumando bevande alcoliche possiamo vivere intensamente una sensazione rassicurante di potenza, di slatentizzazione della parte erotica e sessuale della nostra esistenza, della percezione estetizzante del nostro volto riflesso allo specchio o nell'incontro con l'altro che immaginiamo essere molto più bello di quanto in realtà sia. In fondo, nessuno di noi alla fine è un granché, anche dal punto di vista estetico, perché destinato all'usura del tempo. Deve essere stato un bell'uomo, deve essere stata una bella donna, ma si vede da qualche tratto, contemporaneamente stai dicendo che non è più ciò che era. E noi viviamo in questa costante tensione estetizzante, questa idolatria dei corpi che abitiamo, che ci impedisce di vivere, ma anche in questo caso distribuiamo gli etichettamenti. da una parte la malattia dell'anoressia e della bulimia, dall'altra il culto del proprio corpo che deve essere conforme ad alcuni parametri che pensiamo di avere inventato noi, in realtà li abbiamo assorbiti dalla cultura esistente, una certa altezza, una certa modalità delle armonie delle forme, capelli, gli occhi, non hanno mai un colore sufficientemente aggradante, non ci aggrada il colore degli occhi. Immaginiamo, ripristinando forse una mitologia ariana, di avere occhi azzurri, capelli biondi. Queste sono una delle metallurgie, ma ci sono anche altre naturalmente che guardano a forma dei corpi, il colore degli occhi e i capelli, che sono esattamente l'opposto, ma sempre all'insegna dell'idolatria, idolatria dei corpi, che arricchisce il campo della cosmesi. Noi che possiamo permetterci di vivere il privilegio dei luoghi che abitiamo, con grande disponibilità di cibo, stiamo lì a giocare con il cibo, mentre altri il cibo non ce l'hanno neanche per i propri bambini. Ogni minuto muoiono bambini di fame, ma non troverete rilevanza sugli organi di informazione di massa, sui social, nessun interesse, così come l'interesse nei confronti dell'ecologia è ampiamente sottaciuto. Accade sì quando c'è qualche disastro ambientale, le bombe d'acqua, allora ci si allarma, ma non più di uno o due giorni. Catastrofi idrogeologiche, ci si allarma, ma non più di uno o due giorni. costantemente però siamo ossessionati dal mantenimento e conservazione del nostro stile di vita, del nostro comportamento. Questa è la normalità. Dall'altra parte c'è la devianza. Altro aspetto che dobbiamo approfondire e che ci riporta inevitabilmente a riconsiderare quel testo che qualche mese fa ho letto in alcune parti, non ho ancora finito di leggerlo, ma a mio parere dobbiamo assolutamente riprenderlo, soprattutto nel lavoratorio. Testo di approfondimento. La maggioranza deviante è una associazione di parole. Maggioranza e deviante. Siamo tutti sostanzialmente dei devianti etichettati come normali. Schiavi sostanzialmente. Sì, addicted. Le metafore dell'uso delle droghe psicoattive e in particolare dell'alcol etilico ci insegnano a reinterpretare l'esistenza umana andando alla radice di quell'idea di controllo unilaterale sulla realtà che ci forgia all'idea di essere creatori e non creature. Liberati sì in gran parte dalle leggi di natura ma allo stesso tempo essendo natura con tutte le sue leggi. Una grande contraddizione che fa i conti con il fatto che noi evolutivamente siamo stati arricchiti da una coscienza etica morale la consapevolezza del nostro agire che rende la nostra vita anche particolarmente difficile. Molto spesso la coscienza ci turba profondamente è un perturbante della nostra esistenza non ci permette di essere sufficientemente liberi come vorremmo a essere perché noi abbiamo interpretato la libertà come la possibilità di fare quello che vogliamo indipendentemente dalle relazioni che creiamo nei nostri contesti esistenziali di vita e di lavoro. sì liberi liberi di fare quello che ci passa per la mente liberi non assoggettati e contemporaneamente accettiamo un assoggettamento che proprio in nome della libertà liberista ci consegna a essere dei consumatori disattenti nei confronti di quella coscienza morale che ci dovrebbe portare a una costante ponderazione del nostro agire e in questo noi diventiamo largamente dei devianti rispetto all'equilibrio con nostra madre terra con il pianeta l'alcolismo le tossicodipendenze gli stati mentali che si chiudono in se stessi nelle condizioni definite psicotiche paranoiche bipolari quando vi è una alternanza devastante dell'umore verso il basso verso l'alto senza alcun equilibrio uno squilibrio costante ma questo squilibrio è la traccia e dobbiamo scoprire di questa normalità che è deviante rispetto agli obblighi che dovremmo assumerci in termini etici e morali quando scopriamo di vivere in un contesto che è inevitabilmente ecologico sociale perché noi siamo animali sociali tutto il vivente sul pianeta è sociale il mondo delle piante è sociale è comunitario e le comunità non riusciamo a intravederle perché si intrecciano nel mondo delle radici nel sottosuolo nel humus nella terra nostra madre terra generatrice che ci consegna a una condizione esistenziale ricca di relazioni alle quali costantemente cerchiamo di sottrarci e questo è uno degli ostacoli fondamentali per rendere possibile una comunità relazionale che sia autenticamente ecologica aperta al mondo che si sente appartenente alla comunità locale questo è il club che deve fare i conti con la risignificazione di parole come normalità e devianza è un tema che ha caratterizzato l'intera storia dell'umanità che traccia la sua presenza nella sapienzialità antica pensate alle tragedie greche a questa sfida costante nei confronti dell'equilibrio cosmico rappresentato dall'Olimpo dalle divinità intorno alle quali poi si intessano altre forme di lotta intrinseca tra le divinità dopodiché l'umano fa esperienza di appartenere ad un universo che dobbiamo costantemente esplorare e questo universo è quella entità che ci trascende e che noi cerchiamo sempre di tradurre in termini antropomorfi fino al punto di autorappresentarci come divinità Dio è uno e ha molteplicità forme espressive nei diversi contesti culturali non è un'entità antropomorfa ma si fa concretezza di presenza su questa terra questo è l'insegnamento antropologico del Vangelo e costituisce un regno incarnato che è esattamente contrapposto rispetto al regno della mondanità fatta dal potere del controllo unilaterale della negazione dell'appartenenza ecologica l'appartenenza ecologica libera i nostri sensi ci libera dagli ingombri rappresentati dai nostri sensi e apre la dimensione desiderante in quella dimensione desiderante possiamo finalmente eliminare le tante etichette di normalità e devianza ma è un percorso molto difficile che dobbiamo costantemente approfondire e vivere nella esperienza della vita del club il quale ci invita a essere sobri rinunciando anche a qualcosa perché l'astinenza è un atto preliminare ti rinuncia il sacrificio per certi versi ma non finisce lì fatto questo questo piccolo atto che non è la cosa più importante ma sicuramente il punto di partenza possiamo aprirci a una sobrietà autentica buona giornata a tutti